La psoriasi è più di una malattia immunitaria e cronica che colpisce la pelle. È una condizione che spesso ha un impatto significativo anche sul benessere fisico ed emotivo delle persone che ne soffrono. Proprio per liberare la pelle e la vita delle persone che hanno questa patologia nasce liberalapelle.it, il nuovo sito di informazione Lilli, con il patrocinio dell'associazione Amici della Fondazione Natalino Corazza Onlus e di Sidemast, con consigli utili per gli italiani che soffrono di psoriasi. Noi abbiamo in medicina degli indicatori di qualità della vita. Ci sono degli studi che evidenziano come la psoriasi vada a collocarsi come impatto sulla qualità della vita tra le neoplasie e le malattie cardiovascolari. Eppure per alcuni è solo una malattia di pelle. Attenzione perché non è solo una malattia di pelle. La psoriasi può colpire nel 30% dei casi anche le articolazioni, invalidando anche fisicamente il paziente. Il medico non può pensare alla psoriasi come malattia, ma deve pensare alla psoriasi come problema. E questo problema comporta quindi una risoluzione non soltanto dal punto di vista terapeutico, ma anche un adeguato counseling. Questo si fa con il dialogo, questo si fa con il continuo incontro, questo si fa vincendo la reticenza che a volte ha il paziente a parlare delle sue problematiche più intime. A questo punto il medico può con delicatezza e capacità indicare la corretta terapia da una parte, ma anche un corretto stile di vita. Oggi, a differenza di tanti anni fa, ci sono molte cure che possono far passare una vita anche in un modo tollerabile, perché altrimenti per lo psoriasico la vita è una schiavitù. Non dimentichi che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito nel 2014 la psoriasi è una malattia invalidante. Una sana informazione è assolutamente fondamentale e affrontata dai vari stakeholders che ci sono in questo giro, cioè le associazioni, le società scientifiche che ce ne sono e chiaramente anche un sito come questo.